Grazie Michele, un abbraccio a tutti e faccio una parte del vecchietto, finalmente sono diventato vecchietto rispetto a quando eravamo dei giovani, quindi come tu ti chiedi quando arriva questa idea brillante che viene appassionatamente presentata e che viene con un modello molto efficace insomma, perché il modello che è fatto da Adriano è un modello che riesce a trovare consenso e condivisione e soprattutto a mettere un attimo, credo Adriano, sul tavolo e in momenti di impressione con i personaggi importanti, perché se invece partiamo con quello che è fatto da Adriano, non ne troveremo sicuramente disponibilità, perché io vi porto al ruolo di quello che state qua e dice, sì tu sei giovane, caro figlio, c'è tante idee, ma fammi capire un po' di ciò, quindi quel modello è già la prima traccia, adesso è necessario, diciamo, documentare, raccontare un po' di più, quindi addicchire tutto quello che sta iniziando un po' a venire fuori da questa idea, da l'analisi chiaramente per te, è molto importante, per tracciare un percorso che sia comprensibile fondamentalmente a tanti personaggi, in primis agli stessi che hanno avuto l'idea, perché sono innamorati con l'idea, che non sarebbero imprenditori, non sarebbero veramente persone che possono poi cercare di curarla, e che però oggi, a mio parere, i nostri pareri, non possono piacere solo, per fortuna, l'imprenditorio non sarà più solo, perché oggi, qua a me non funziona più, oggi il mondo è con l'autantico, la collaborazione di massa dice, gli nomi che sono stati per la monta e ci crediamo, quindi per prima cosa dobbiamo essere tanti, Michele e i suoi amici sono un esempio, si vince se si è in condivisione, già da l'idea, quindi magari l'idea è stata riguardo, ma poi trovo un gruppo di amici che insieme iniziano l'autantico, e quindi a trovare e a valutare se questa idea sta piena, se questa idea trova mercato, se questa idea trova chiaramente della sostenibilità finale, perché io sono un uomo di numeri, nasco controlli, anche dentro nasco ragionieri, cioè, poi mi ha passato il controllo e poi divento un uomo che supporta anche il sviluppo strategico, quindi i numeri servono, attenzione, tanto più oggi, che dobbiamo comunque partire con una volta che fa bisogno di risorse finanziarie, queste risorse dobbiamo saperle cercare, dobbiamo trovarle, dobbiamo quantificarle, quanti ce ne servono, con quale soluzioni finanziarie possiamo prendere, virtù di quelli che sono gli eventi di sostenibilità del mondo finanziario, chiaramente il numero non è una scelta esatta, il numero che esce con l'Ista Spagna sono dei scenari, come dicevamo prima, sono delle logiche alternative, sono delle simulazioni che faremo, ma che ci fanno superare la paura a volte, tante volte, quando si parte nel puglio, si ha più paura di quando si dice invece, creare delle simulazioni nazionali, che cosa potrebbe succedere, che cosa vuole. E' ovvio che a questo punto c'è anche un altro soggetto che è il finanziatore, il private tech, il venture capitalist, a cui dobbiamo raccontare e a cui dobbiamo chiaramente far sì che lui possa decepire e credere a questo soggetto. Infatti il passaggio centrale di un business partner è quello di essere credito. Come non possiamo rendere credito? Alcune indicazioni secondo me fondamentali. Premi indicazioni, ci devono essere imposti, si lascia meglio di impostare. Quanto è bello quel lavoro che fa per l'evalente. Noi andiamo a cercare di capire, quando si parla di ormai, che cosa dicono. E quelle sono informazioni che vent'anni fa c'è. Se noi oggi abbiamo una serie di informazioni che se le sappiamo ben leggere, ci danno effettivamente una percezione di quello che sul mercato c'è, di quello che sul mercato non c'è, di quello che ho bisogno. E quindi trovare le fonti, citare le fonti, cogliere l'intuizione di un'analista piuttosto che di un altro, ma tanti compiti. Perché ce ne sono tantissime informazioni di scenari. Se io sono bravo a percare quello che secondo me è più convincente, può darsi che riesco ad avere un'idea più attuale di un altro, perché ho letto il futuro da qualcuno che è uscito a prevedere il domenio. Quindi anche questo è un passaggio per te. Avere invece queste fonti informativi, scegliere tra le fonti informativi e sostenere con queste fonti, che sono spesso esterne, perché non posso dire soltanto io sono il visionario. Certo, io sono il visionario. Ma dai sostegno a qualche parte di cima a tutto, potresti essere un passo o potresti essere un più di ciò. Quindi, secondo passaggio, il visionario tende ad avere obiettivi a volte eccessivamente ambiziosi. Questo non si rende. Questo è pericoloso, soprattutto all'esterno. spaventi il soggetto esterno. L'obiettivo deve essere sfidante, ma abbastanza leggerito. Attenzione a questo tipo di obiettivo, vantagli anche interno. Se noi impiantiamo un progetto, con una serie di investimenti, di richieste, di azioni, di risorse che carichiamo a poco, di dipendenti, se noi siamo stati troppo ambiziosi sulle modificazioni, noi carichiamo la struttura centrale, di costi fissi, di investimenti, di troppe persone, e la fuggiamo su base. Questa zatta non galleggia. Quindi, il fatto di avere elementi più raggiungibili, ci considera a dire che se fai di scalare eventualmente l'obiettivo. Quindi, partiamo con un obiettivo certo ambizioso. Certo, ma la sua visione, ma che sia, secondo me, più raggiungibile, teniamoci nel cassetto eventuali obiettivi di eccellenza di valore. Anche perché l'esterno si fa bene. Quando Facebook presentando i risultati che ha avuto oggi, sicuramente nessuno si credeva. Presentando con una proiezione molto limitata, forse era più sostenibile da analisti esterni e anche da quelli che vengono a un rapporto. Terzo elemento, fattori di successo. Dimostrate che da quella scontro informativa è strato la mia proposta di valore, la mia plan di proposition, che il modello di business chiaramente la tira fuori. Quindi, è strato, raccontato e subito. E il Peter Pan quindi deve essere un racconto, un romanzo. Deve narrare. Quindi, preparare vuol dire e descrivere. Ci deve essere del tempo da navigare questa lettura. E oltre che, vedete, c'è bisogno di fare sintesi di lettura. Che ha un passione del lettore, al tempo stesso, io una porta a casa, me lo prendo, io che sono socio, io che sono realista, io che sono indipendente, che voglio attrarre, perché oggi dobbiamo affiatrare, i talenti, perché sono pochi e che funzionano, i talenti si attraccano, se noi, ovviamente, abbiamo un business plan chiaro, che dimostra che ciò che possiamo fare. E allora, che ce la possiamo fare, secondo noi, di Rhype, Rhype nasce, proprio su questa metafora data. Rhype, grazie alla nostra mia cassetta, chiude, si è appassionata degli taggioni. Quindi, sono i veri elementi, su cui si sviluppa l'impresa. Le vede devono il valore, che vengono fuori da questa analisi, da questo modello, sul campo ci sono le risorse chiare, le attività chiare. Michele parlava di connessioni, relazioni, capitale relazionale. Conta più questo, che altri elementi. Capitano, ma non capitano, per esempio, su questo dobbiamo dimostrare, che stiamo facendo sviluppo, e che il progetto, l'impresa, va a differenziarsi dagli altri. E verrete che, dalle radici, ha il progetto di sviluppo. Perché poi, il business plan deve cercare di dimostrare, a noi soci, e ai nostri partner, che i frutti vengono. A questo punto, è chiaro che, il business plan che cosa fa? Fondamentalmente, deve descrivervi, raccontare, tutto il passaggio, complesso, che va dall'idea, dall'analisi strategica, dal modello del business. E quindi, utilizza strumenti, di descrizione, ma anche strumenti grafici, di modelli tradizionali, ovviamente, qui troverete modelli in port, troverete modelli in posizionamento, troverete modelli in siano gruppi, possono essere tutti benvenuti. E poi, la parte finale, è quella che cerca di vedere, se questo modello, sta pieno. Sta pieno di voler dire, se io sono un soggetto, che è interessato, a quali del benessere, che è libero, attenzione, non pensiamo a modelli di alta profittabilità, e che sarà il preditore di questi. L'importante, è che sul canvas, chiaramente, in questo aspetto, invece, è il secondo piano, qui invece va, va iniziato, è che sia sostenibile finanziariamente, che ci siano le giuste risorse, che non andiamo in crisi finanziari, perché se no, qualsiasi modello economico che c'è, se per i crisi finanziari, sa, qui dobbiamo costruirlo sulla roccia, per costruire, poter partire con i giusti elementi, di capitale sociale, di capitale rischio. Andiamo a prendere, capitale rischio necessario, per sopportare il problema. Questo, al nostro perere, è un elemento importante. Andiamo a cercare. E allora, come si presenta, questo documento, che è lungo, è complesso, e che richiede qualche settimana, di stesura, a livello di stesura, di costruzione, poi, di qualche tempo, di velocità che abbiamo. intanto, una sintesi, che, riacchiude tutti i messaggi, e che consente a un lettore, di appassionarsi, a quello che invece, può ispirare, di tante, tante pagine, di tutte le stesse. Quindi, le 5, 10 pagine, è il massimo di sintesi, di tutto il processo. Poi, invece, si riega i dettagli. Il dettaglio, vuol dire, fondamentalmente, perdere molto tempo, a questo, lo stiamo presentando, a qualcuno che non sa niente, di quello che abbiamo in testa. Perché non lo vuole, a questi dettagli? A chi diamo, il risposta? C'è un cliente, che percepisce questo, c'è un cliente, che forse lo percepisce, ma che ha bisogno, di soddisfazione, di risultati. La nostra vera ragione, è essere, che poi, tira, e crea il collante, che si è visto, che il vero collante, è il sviluppo dell'impresa, che porta a conto, i nostri amici, che sono i soci, che sono i colleghi, che sono i dipendenti, e è la vera mission. E quindi bisogna chiedere. Bisogna anche dire, che i valori abbiamo, siamo persone, speculatori, sfruttiamo che gli enti, siamo persone che, rispettano i beni comuni, entiche, socialmente responsabili, sono valori, costanti per attrarre, oggi, risorse finanziarie, giuste e talenti. E chiaramente, tra l'altro, la stella, su un cliente, no? Quindi, questi sono concetti, che vanno a vendere, se ti chiedi. Poi, tutta la parte di racconto, degli elementi di mercato, che sono tutti i strumenti, che sono sul campus, che sono nell'analisi di mercato, che dobbiamo sintetizzare. La proposta di valore, vediamo chiara, soprattutto, facciamo capire le competenze, che abbiamo, il capitale tangibile, che realmente abbiamo, chi siamo, intanto, i fondatori, produttori, chi ci portiamo a porto, che relazioni abbiamo, che siamo attivati, che modelli negativi, c'erano, viviamo ancora, modelli gilattici, lenti in costodio, con modelli collaborativi, gilattici, che sono il futuro, per la gente, la gente generale, io sono, perci, il nostro modello, non può essere, quello, che avevo, il tempo. Terzo passaggio, importante, qualche numero, fondamentale, o anche i numeri fondamentali, serviranno, per favorire, il sistema di controllo, questa decennale, e per trovare, il consenso insieme, se non abbiamo misure, non lo teniamo, ciò che misure, ottieni, questa febbra, un nome dei numeri, se tu misuri, che devi dimagrire, dimagrirai, magari perdi, colesterolo, se tu misuri, che devi, potenziali, tu scriverai, che vuoi, suprimiso, dentro di Dio, magari perdi, invece, anche con il seguito, non troppo, dobbiamo scelere, quali misure contano, quali azioni, a questo punto, diciamo, prego, le azioni sono decisive, abbiamo un'azione tra bene, quali azioni per dire, e finalmente, a questo punto, arriviamo ai elementi, di sì, dimostrare, che tutto questo processo, raccontato, documentato, con i vari modelli, sta in pieno, e quindi, regula bene, i fattori prodottivi, io credo, che in qualsiasi azienda, oggi, non si possa, perché, ma la diceva, il Made in Italy, non può lavorare sul costo, io devo pagare, al meglio, gli imprendenti, devo pagare, le tasse, che sono costosissime, devo pagare, le imprese che costano, devo pagare, i miei compitori, non le vuoi assolutamente, quindi, vuol dire, che è un modello, che propone qualcosa, di unico, di diverso, qualcosa, che ha un prezzo alto, ma perché percepisce, e risponde a qualcuno, che è pronto a pagare, questo, questo, questa caratteristica, è lì, il modello che c'è, e quindi, devo dimostrare, che nel progetto, fondamentalmente, si parte, non vi abbiamo la commerciale, si arriva a vedere, se esiste una marginità alta, se copriamo, questi costi in realtà, e soprattutto, se questa politica commerciale, simulando anche, dei scenari, perché lo possiamo, essere cercati, che il nostro venditore, ce la farà raggiungere subito, il risultato, che il nostro cliente, ricercherà subito, con la proposta, riesce a coprire, anche in ipotesi, che è giuro, lo scenario, il sinistro e il mondo, il nostro costo riso, e quindi, chiudiamo fondamentalmente, tenendo conto, che questo è il vincolo, che nel dunque, il dallo, non devo raggiungere, ma, cerchiamo di capire, che finanziariamente, nello scenario, il più gioco, deve essere coperto, e oggi è coperto, che è sogno, che costruisce, con un capitale di rispetto, l'abbiamo visto, matissimi, aziende, nel 2008, che hanno perso il 40%, soldi, non hanno avuto nessuna conseguenza, hanno perso assoluti, io non ho conto a niente, bisogna finire, per poi, rilanciarsi, allora, chiudo proprio con questa attenzione, c'è tutto questo processo, che in 15 minuti, che la mente è faticoso, raccontare, di un intertanto, ma, ovviamente, deve cercare, di documentare, a noi, perché tutti, perché siamo un gruppo di persone, che è il nostro padre, che l'idea, è credibile, sostenibile, e che tra i risultati, come diceva, il fondatore del BIM, che si conosce, nel project manager, come diceva lui, diceva, il pianificare, non deve essere pazzo, perché chiaramente, stiamo cercando, a creare un modello, che quantifica, che trova le percussioni, su elementi, inesatti, su teoremi, algoritmi, estrati, ma è chiaro, che c'è anche il grande step, ma non bisogna essere fobili, secondo me, in questo momento, il nostro giovane, imprenditore, il nostro start-up, che è quello, che secondo me, darà anche, il nostro termomigiano, che sta finendo, il vecchio modello, e io ne sono contento, mi dispiace, se attacchi i miei amici, imprenditori, ma sono contento, perché i vecchi, imprenditori, sono tutti, imprenditori, secondo me, sono molto più vivi, e pronti a capire, che con queste logiche, si condivide, si cresce, e si può lasciare, su qualcosa, che comunque, è molto difficile capire, c'è bisogno di vivere, in questa parte, grazie.